a shanti la cantautrice americana è incinta aspetta il suo primo figlio con il rapper nelly i due volti celebri del panorama musicale mondiale sono tornati insieme dopo un lungo periodo separati la loro storia d'amore ha avuto inizio nel 2003 e dopo numerosi alti e bassi terminò nel 2013 lo scorso settembre hanno annunciato il loro ritorno di fiamma scrive people e ora sono pronti ad allargare la loro famiglia per nelly si tratta del quinto figlio non vedevo l'ora di vivere la maternità e condividerla con la mia famiglia il mio fidanzato e i miei fan fedeli che mi hanno supportato così tanto nel corso della mia carriera è un'esperienza straordinaria così a shanti ha commentato l'inizio di un nuovo capitolo della sua vita essence nell'intervista l'artista oggi 43 n ha confermato di essere incinta del suo fidanzato storico nelly ieri sera su instagram ha anche condiviso un video nel quale annuncia la sua mamma che presto diventerà nonna la storia tra shanti e nelly è nota al mondo del gossip e al centro di chiacchiericci da oltre dieci anni le prime indiscrezioni sulla loro relazione iniziarono a circolare nel 2003 prima che nel 2005 comparissero le prime foto di coppia nel 2007 confermarono la loro vicinanza dopo la rottura nel 2013 a distanza di anni si sono riappacificati e stavolta le intenzioni di costruire il loro futuro insieme sono serie lo scorso settembre scrive people nelly confermò il ritorno di fiamma siamo entrambi sorpresi non era una cosa che avevamo pianificato da separati abbiamo capito qualcosa in più ora aspettano il loro primo figlio insieme il quinto per il rapper già papà di cornell terzo e chanelle nati dalla relazione con l'ex chanetta valentina e di sean e sydney thomas suoi nipoti adottati dopo che la sorella jackie donahue è morta di leucemia nel 2005 con l'ex chanetta valentina Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.